Ora inizio Playing Brain con Edoardo Boncinelli Buonasera, non so come ma siamo arrivati, devo dire che Cagliari ci ha riservato una serie di trappole oggi, per cui solo un cervello giocoso o giocogliere poteva farci arrivare. Allora il mio tema è Playing Brain, che penso che si traduca in cervello che gioca. In realtà il cervello gioca tanto, il nostro cervello gioca tanto, per due motivi essenzialmente. Primo, perché restiamo cuccioli per un periodo incredibilmente lungo. Anche gli animali giocano, ma giocano solo quando sono cuccioli. Solo che loro sono cuccioli qualche mese, qualche volta un anno, un anno e mezzo. Noi esseri umani siamo cuccioli per anni, secondo qualcuno anche per trent'anni. E quindi abbiamo una certa tendenza a fare tutti quei giochi che gli animali normalmente fanno da piccoli, che servono a fare le prove per la vita seria. Servono a fare le lotte, servono a fare le baruffe, servono a esplorare il territorio che poi quando saranno più grandi non faranno più e via discorrente. Su Facebook ho beccato un filmatino di un'orsa bianca, mamma, che guardava con affetto i suoi due cucciolotti giocare. Anzi si dice a Firenze ruzzare, vuol dire fare un gioco più o meno scomposto. Quindi noi giochiamo con tutto il nostro corpo e in particolare con il nostro cervello perché restiamo cuccioli un po' più di quello che succede agli altri animali. Ma il nostro cervello gioca anche perché è troppo grosso. A cosa serve il cervello? Il cervello serve a muoversi, a raggiungere gli obiettivi, a scansare i pericoli e secondo qualcuno anche a trovare l'accoppiamento. Infatti qualche anno fa uscì un libro molto interessante che si chiamava The Mating Brain che vorrebbe più o meno dire il cervello che si accoppia. Quindi il cervello per questo serve. Però data la nostra massa corporea, che è sensibilmente più grande di quella di un scimpanzee ma non è quella di un elefante, a noi ci basterebbe 800-900 grammi di cervello. Capita che ne abbiamo di molto di più. Abbiamo 12-13 etti di cervello, chi più chi meno. Quindi abbiamo una certa quantità di cervello che non serve a niente. Che non serve a niente biologicamente, naturalmente, perché non serve a farci muovere, non serve a farci raggiungere gli obiettivi, non serve a farci scansare pericoli, non serve ad accoppiarsi. E allora a cosa serve? E non è facile dirlo, ecco, forse perché mi hanno dato a me questo compito, The Plain Brain, perché volevano mettere alla prova la mia capacità di inventare storie. Il nostro cervello fa un sacco di cose biologicamente non necessarie. Noi abbiamo una grossa corteccia cerebrale che nasce solo con i mammiferi, ma è piccolina, piccolina, poi cresce, 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 nel caso degli uomini copre completamente il cervello. Se infatti noi guardiamo un cervello, vediamo la corteccia cerebrale. la maggior parte di questa, fino a qualche decennio fa, si chiamava silente, cioè come se non facesse assolutamente nulla, perché non si riusciva a trovare nessun motivo per il quale questa fosse indispensabile. In realtà noi siamo esseri umani proprio perché abbiamo questa parte, una volta chiamata silente del cervello, che corrisponde grossomodo ai lobi frontali, a questa parte qua. Che cosa sappiamo oggi di questa parte? Sappiamo che serve a fare le associazioni, sappiamo che serve a fare i ragionamenti, sappiamo che serve a immaginare, a connettere i ricordi e a creare. Quindi voi direte come non serve a niente? Serve alla cosa più importante che noi facciamo, è vero. Ecco il double fast di questo plain brain. Biologicamente più della metà della nostra corteccia non serve a niente. Dal punto di vista dei nostri gusti personali, della nostra civiltà, della nostra cultura, è la parte più importante. Questo però, che sia la parte più importante, non ci garantisce che conosciamo come funziona. Non lo sappiamo. Sappiamo solo che entrano dentro tanti segnali provenienti da tutti gli organi di senso, provenienti dai ricordi, provenienti anche dal fatto che un mio muscolo, quando fa male, mi manda un segnale, che la rotula, quando non è più oliata, mi manda un segnale. Arriva tutto alla corteccia cerebrale. questa fa un pastrocchio e tira fuori il nostro comportamento materiale, cioè quello che noi facciamo, e mentale, cioè quello che noi pensiamo, immaginiamo, crediamo e anche quello per il quale combattiamo. quindi se c'è un cervello che gioca, quello è proprio il nostro. Dal punto di vista di un coccodrillo, dal punto di vista di una mangosta, che essendo animali profondamente legati alla biologia, all'istinto, non capirebbero mai che cosa ce ne facciamo noi di questo cervello in più. Qualche volta non lo capiamo nemmeno noi, per dire la verità. Mi capita spesso di leggere libri e giornali in cui mi chiedo ma chi gliel'ha fatto fare di fare tutto questo ragionamento. Però vogliamo essere ottimisti e possiamo dire che tutto quello che abbiamo costruito, tutto quello che abbiamo inventato, compreso questo bastione affacciato sul mare, è prodotto della parte inutile, tra virgolette, del nostro cervello. Questo è quello che io pensavo di dire venendo a Cagliari. Ma poi sono arrivato qua e ho visto che il tema del convegno è i giochi dell'essere. Allora non posso rimanere insensibile al fatto che il cervello è l'oggetto biologico che crea l'essere inteso come la nostra percezione del mondo. Noi conosciamo il mondo, lo apprezziamo, non lo apprezziamo, lo inseguiamo, lo fuggiamo, tutte le cose che ho detto prima sulla base delle nostre percezioni che sono elaborazioni delle nostre sensazioni. Ma cosa sono le sensazioni? Cioè cosa c'è là fuori? Quell'oggetto che a me mi sembra una palma un po' spennacchiata oppure quella tenda laggiù? Che cos'è nella sua essenza che a me appare così? Non lo sa nessuno. Forse vi ricorderete dal liceo che Kant, Immanuel Kant, disse che la cosa in sé, cioè il mondo in sé, non è conoscibile. Tutto quello che noi possiamo conoscere è quello che i nostri sensi fanno di quel quid inconoscibile ma probabilmente sottolineo probabilmente esistente che si chiama essere o cosa in sé. Quindi i nostri sensi in primis, il nostro cervello dopo ma soprattutto la nostra corteccia crea il mondo. Questo vi potrà sembrare un po' strano soprattutto in tempi di realismo io penso da scienziato che quella palma sia lì a prescindere dalla mia presenza, dalla mia osservazione o anche dalla vostra e credo che su questo ci sia poco da discutere. Però se quello è una palma o se è un oggetto completamente informe io non lo posso dire. Perché dico che è una palma? perché mi arrivano una serie di segnali visivi in realtà se qualcuno ci batte sopra anche auditivi ma noi siamo animali prevalentemente visuali che arrivano al nostro occhio alla nostra retina salgono per il nostro nervo ottico e arrivano al nostro cervello. Quello che abbiamo imparato negli ultimi 40 anni di trionfare sviluppo delle neuroscienze e che i nostri sensi non osservano il mondo ma lo interrogano gli pongono delle domande. Come lo sappiamo? Lo sappiamo studiando gli organi di senso e poi le varie regioni della corteccia che elaborano queste informazioni. per esempio quando si cominciò a mettere i piccoli elettrodi nelle cellule nervose si mise uno di questi nella retina di un ranocchio e si vide che c'erano cellule della retina del ranocchio che non emettevano mai nessun segnale se non quando il ranocchio vedeva un moscone. Beh, lo scopo è abbastanza chiaro per un ranocchio un moscone vuol dire si mangia se non un moscone vuol dire non si mangia quindi la finalità è chiara però gli scienziati rimasero perplessi dal fatto che quelle cellule nervose avevano un'unica domanda sulla bocca c'è o non c'è un moscone in giro? Attenzione moscone vivo perché se io alla stessa ranocchia faccio vedere un moscone morto lei resta inerte e quei neuroni non si smuovono assolutamente perché è ovvio perché un moscone morto non è un cibo valido quindi per la retina della ranocchia per quelle cellule della retina della ranocchia la domanda che viene a fior di bocca è c'è o non c'è un moscone? il mondo risponde risponde a modo suo o sì o no non può rispondere forse abbiamo tentato di imbrogliare tantissimo le ranocchie facendo delle sagome di cartone che avevano una certa forma un certo colore una certa velocità e insomma o lei o lo definiva sì o lo definiva no mai la retina della ranocchia avrebbe capito che si trattava di uno dei tanti modi che l'uomo ha di disturbare gli esseri viventi facendogli degli scherzetti e quindi alla retina e quindi alla corteccia arrivava solo arriva solo la domanda sì oppure no noi non siamo ranocchi ma dieci anni dopo questo esperimento due signori che poi presero il premio nobel fecero vedere a un macacco una diapositiva e un certo numero di cellule della corteccia visiva che sta qua dietro davanti a quell'immagine si attivarono tantissimo e allora loro gli fecero vedere una serie di diapositive simili e quelle cellule non si attivarono per niente gli rimisero la stessa diapositiva e di nuovo quelle cellule si attivavano tantissimo qual'era la spiegazione a quell'epoca le diapositive erano messe fra due vetrini e in quella particolare diapositiva un vetrino era scheggiato quindi c'era una rottura verticale quindi quelle cellule della corteccia visiva di quel macacco non guardavano il soggetto della diapositiva ma vedevano solo una striscia verticale quindi quelle cellule a differenza di quelle del ranocchio che rispondevano solo all'esistenza di un moscone rispondevano ancora a meno c'è o non c'è una linea verticale nel mio campo visivo hanno preso il premio Nobel questi due perché ci hanno messo un po' di tempo a rendersi conto che questa era la spiegazione una volta capito che questa era la spiegazione gli hanno fatto vedere linee orizzontali linee oblique e via discorrendo quindi il nostro sistema visivo interroga il mondo per esempio la scena che vedo ora in questo momento spezzettandola in una serie di domande precise linee verticale io vedo un lampione per esempio vedo anche in qualche modo quella palma vedo la grondaia di quel palazzo linee orizzontali linee un po' oblique angoli chiari scuri colori cosa vuol dire che noi vediamo il mondo a colori guardate che pochissimi sono gli animali che vedono il mondo a colori noi vediamo il mondo a colori e paghiamo un prezzo per il fatto di vedere il mondo a colori il prezzo che noi paghiamo è il daltonismo poiché abbiamo evoluto dei geni particolari per i colori in tempi relativamente recenti questi geni ogni tanto si scassano e danno quel disturbo che non è serio ma è sempre un disturbo per cui certi maschi soprattutto perché il gene sta sul cromosoma X non distinguono il verde dal rosso e quindi hanno qualche problemino al semaforo i colori sono un prodotto di una serie di domande di parti diverse della nostra corteccia cerebrale quello è rosso punto interrogativo quello è verde di che colore è quello questo per farvi capire come tutto quello che noi vediamo con la più grande naturalezza del mondo da quando siamo a 4 5 6 anni di vita è in realtà una pioggia di piccole risposte che vengono ai diversi organi di senso io ho parlato della vista perché il nostro organo di senso preferito è più parlante ma potevo parlare dell'udito posso parlare del gusto pensate che tutti i gusti di questo mondo dal più semplice al più complesso io oggi a pranzo mi sono mangiato una fregola che mi piace tanto tutti i sapori di questo mondo sono spezzettati in quattro domande perché quattro sono i recettori che noi abbiamo in bocca o sulla lingua o sul palato tanto di dolce tanto di amaro tanto di salato tanto di acidulo pensate è difficile crederlo con tutta la varietà di sapori che ciascuno di noi conosce più quelli che è capace di distinguere un gourmet o una guida gastronomica solo quattro sono le domande perché quattro sono i recettori ma naturalmente poi queste quattro risposte arrivano alla cortecia cerebrale e lei fa il pateracchio lei mette insieme tutte le cose e ci dice indirettamente ecco questo sal di peperoncino oppure questo è troppo salato potrei continuare ma credo che abbiate capito come la visione e più in generale la percezione del mondo circostante è fatta di una serie di piccoli messaggi che in realtà sono risposti ad altre tante domande che stanno codificate nei nostri sensi cosa vuol dire codificate nei nostri sensi vuol dire che stanno legate ai vari sensi ma stanno codificate dove? nel patrimonio genetico quello che normalmente chiamiamo genoma nel mio genoma ci sono certe risposte nel genoma del cane che vive per esempio l'olfatto in una maniera totalmente diversa da noi ci sono altre domande nel genoma del pipistrello ci sono domande completamente diverse perché il pipistrello come già rilevò il nostro Spallanzani nel settecento vede con gli orecchi emette degli ultrasuoni che qualche volta d'estate ci danno fastidio all'orecchio ma che noi non possiamo sentire questi ultrasuoni battono contro gli oggetti rimbalzano facendo una specie di radar o meglio di sonar e permette al pipistrello di non sbattere contro le pareti della caverna o addirittura ad individuare piccole prede di cui cibarsi un filosofo una volta scrisse un articolo che cosa si prova a essere un pipistrello che fece un certo effetto non lo potremo mai sapere quindi la tipica domanda da filosofo cioè senza risposta però è interessante io che sono abituato tanto a poggiarmi sulla mia vista in realtà io ci sento anche abbastanza bene nonostante l'età quindi mi aiuta anche l'orecchio per esempio ho sentito oggi pomeriggio i cabbiani in grande quantità a casa mia a Milano sento i tordi però diciamo sono tutti questi organi di senso noi ci facciamo un'idea generale del mondo è chiaro che voi a questo punto vi farete una domanda ma perché io non me ne accorgo che vedo angoli linee orizzontali linee verticali colori chiaroscuri frequenze sonore o salato dolce amaro e acidulo perché tutti questi segnali arrivano alla corteccia che io chiamo il grande imbroglione che ben lungi da non fare niente come si poteva supporre una volta fanno un lavorino di fino su tutto questo e ci fanno vedere il mondo continuo ragionevole ammesso che la parola ragionevole si possa usare ce lo fanno vedere come lo vediamo tutti i giorni però per fare questo la nostra corteccia si piglia 300 millisecondi cioè un terzo di secondo ricordatevelo sempre non è gratuito quello che vediamo o quello che sentiamo la corteccia si prende 300 millisecondi quindi noi non viviamo in diretta noi viviamo in differita fra quello che succede effettivamente e la mia percezione delle cose passano 300 millisecondi lo sappiamo da più di 100 anni ma non lo dice nessuno come se non fosse importante secondo me è importantissimo quando io vado in motorino o in macchina ormai in motorino non ci vado più e mi traversa la strada un cane un gatto un bambino o un ciclista io in genere freno risparmiandolo freno in 100 millisecondi cioè meno del tempo necessario per prenderne coscienza perché e perché faccio in quel caso a meno della coscienza e i miei sistemi subcorticali onde evitare di fare una strage entrano in gioco e freno dopo me ne accorgo e quindi al limite posso anche decidere se no non mi va di frenare stavolta voglio fare una strage oppure posso dire ma guarda sto cretino che mi ha fatto fare una frenata quindi la maggior parte delle cose che noi facciamo guidando avvengono prima della presa di coscienza avvengono prima dei famosi 300 millisecondi ma naturalmente non è necessario andare a prendere la guida per la strada possiamo pensare a uno che gioca a ping pong uno che gioca a tennis uno che gioca a palla a volo se io dovessi aspettare di vedere la palla e vedere che direzione ha perderei tutte le partite in realtà uno che sa giocare risponde come si dice distinto cioè con sistemi subcorticali poi se aspetto io mi posso rendere conto per esempio posso decidere che una partita la voglio perdere per far piacere a un bambino o a una bella signorina oppure una partita la voglio vincere a tutti i costi perché mi sembra importante però posso fare a meno di questa presa di coscienza ma senza questa presa di coscienza io non avrei cognizioni del mondo quindi il grande gioco dell'essere se lo vogliamo chiamare è proprio costruito inventato messo a punto messo in atto dagli organi di senso e dall'elaborazione che fa la mia corteccia dei dati brutti che riceve dagli organi di senso chiaramente il pipistrello avrà altre facoltà per esempio noi abbiamo due quinti della nostra corteccia visiva dedita alla visione perché siamo animali molto visivi il pipistrello ha una grossa parte della corteccia deputata all'elaborazione dei suoni a 65.000 hertz cioè gli ultrasuoni che a lui piacciono tanto e che a noi se imposti darebbero un fastidio eccezionale ciascuna specie ha scritto nel proprio genoma le domande e le possibili risposte perché non sono infinite le risposte possono essere non due come preferiremmo sin no ma quattro cinque non di più l'animale più strano secondo me è la zecca la zecca è un parassita che ora non è più tanto celebre ma abbiate fede prima o poi qualcuno lo riporterà in voga la zecca è un animale che quando cambia ospite quando salta da un cane per esempio a un altro a volte lo può fare perché ci sono due zecche e allora una se ne deve andare riconosce che sta passando un animale a sangue caldo abbastanza grosso misurando tra virgolette la concentrazione di un acido nell'aria non ha orecchi non ha occhi non ha palato non ha naso ma misura semplicemente la concentrazione di questa di questo acido e possibilmente vede di non sbagliare perché se invece di lasciarsi cadere su un cane si lascia cadere su una motocicletta soltanto perché è calda naturalmente non può poi pigliargli il sangue e quindi fa una pessima fine perché cito questo esempio e non l'ho inventato io è stato fatto già nel 1930 come esempio estremo di percezione che crea un mondo per la zecca in quel momento tutto il mondo è dato dalla concentrazione di questa sostanza che non possiamo nemmeno dire che è annusata perché in realtà è un senso chimico è vero ma è misurato con recettori di superficie quindi tutto questo ci dice come ogni mattina quando noi ci rialziamo quando ci avviamo per strada quando vediamo le cose quando sentiamo le cose siamo l'oggetto di un bellissimo gioco che qualcuno ha giocato alle nostre spalle o a nostro vantaggio secondo i punti di vista per cui il mondo che non si sa cos'è non si sa com'è fatto non si sa se è framontato non si sa se possiede certe caratteristiche viene a me attraverso le mie domande le mie domande da uomo sono più o meno le stesse che avete voi immagino piccolissime differenze quindi tutti quanti noi vediamo un mondo abbastanza simile però basterebbe cambiare leggermente specie nell'ipotesi che noi riuscissimo a immedesimarsi in questa altra specie cambierebbe completamente il quadro e allora il realismo dove va a finire quella palma c'è o non c'è non lo so c'è qualcosa perché se non ci fosse nulla io non vedrei nulla c'è qualcosa che a me Edoardo Boncinelli e a ciascuno di voi voglio sperare almeno che non ci sia qualche mutante fra di voi lo vede sotto forma di una palma e ci capiamo benissimo quando parliamo e ci raccontiamo delle storie e le scriviamo e quindi abbiamo una percezione dell'essere uniforme ma il il modo in cui questa percezione arriva a noi è molto contorto si potrebbe uscire da questo si potrebbe vedere il mondo com'è veramente e domanda conseguente com'è veramente il mondo non lo sappiamo non lo sa nessuno e non si può sapere quindi noi siamo in un certo senso schiavi dei nostri sensi ma anche i principali fruitori in realtà ci piace abbastanza tutto sommato perché ci piace una giornata come questa ci piace vedere un trapunto ci piace vedere una rosa ci piace mangiare un bel piatto quindi a noi i sensi non sembra che ci facciano qualche torto però bisogna sapere che i sensi stanno giocando con l'essere quindi quando pensiamo al nostro cervello pensiamo a due modi di giocare quello di fare cose che non sono biologicamente essenziali come la maggior parte della corteccia questa qua e poi il fatto di giocare con l'essere questo discorso non piace a chi pensa che le cose sono come sono e noi siamo dei filtri negativi noi siamo certamente dei filtri perché per esempio vediamo la luce ma non vediamo le radioonde immaginate se noi vedessimo le radioonde siccome qua tutti hanno un telefonino siccome qua c'è campo vedremmo tutto opaco vedremmo tutto scuro noi non vediamo tutto opaco perché alle radioonde non siamo sensibili siamo sensibili alla luce azzurra in quella direzione più luminosa nella direzione del sole e quando il sole tramenterà diventerà progressivamente sempre più arancione perché la luce bianca che proviene dal sole attraversando l'atmosfera si spezza in due componenti quella che va trasversalmente che è azzurra quella che va a diritta che è arancione quindi noi godiamo di diversi privilegi ma la maggior parte di questi privilegi è dovuta all'indole giocherellona dei nostri sensi prima di tutto e della nostra corteccia cerebrale fino alla creazione noi apprezziamo molto la creatività apprezziamo l'inventiva apprezziamo la musica apprezziamo la pittura apprezziamo la scultura apprezziamo la letteratura tutte queste cose sono figlie del cervello che non fa niente di utile ma che fa tutte queste costruzioni basate sulla nostra percezione del mondo perché quando qualcuno superando diversi livelli storici mi dipinge un cavallo blu fa qualcosa che è contrario al suo istinto cavalli blu fino adesso non se ne sono visti probabilmente tra poco se ne vedranno ma fino adesso non se ne sono visti questo che noi chiamiamo artista ha talmente trasceso e trasfigurato la nostra percezione che ha fatto un cavallo blu o ha fatto una una pera viola i giochi dell'essere fondano l'essere e la fondazione dell'essere per noi esseri umani è dovuta al lavoro che in 300 millisecondi la nostra corteccia fa sui nostri dati sensoriali e gli altri animali qualcuno potrebbe chiedere ma hai parlato sempre di noi hai parlato sempre delle nostre tendenze beh anche gli animali vivono anche gli animali se devono invoccare una porta non sbattono nel muro ma invoccono la porta quindi anche gli animali hanno i sensi anche gli animali hanno la capacità di rispondere in maniera adattiva alle domande dell'ambiente quello che noi non sappiamo è cosa loro pensano che cosa loro sentono che cosa se qua ci fosse un cane che sarebbe tutt'altro che impossibile che cosa penserebbe questo cane di questa terrazza affacciata sul mare di questa terrazza probabilmente annuserebbe a destra e a sinistra per cercare un odore a lui familiare un gatto cercherebbe il posto tranquillo in cui c'è un po' di calore ma quello che noi crediamo di avere è la coscienza crediamo di avere solo noi e la coscienza che è una presa di coscienza che ci permette di parlare di quello che percepiamo dice che cosa c'entra adesso il parlare c'entra provate a comunicare quello che percepiamo in questo momento senza parlare probabilmente tutta la differenza fra noi e gli animali è tutta lì per forza anche loro devono percepire qualche cosa per forza anche loro si godono manifestamente le cose che vedono e che sentono ci avranno una capacità di costruire una strategia e una tattica certamente ma noi non sappiamo e non sapremo penso ancora per molto tempo che cosa provano noi abbiamo quella che noi chiamiamo coscienza e siamo sicuri di averla a volte la chiamiamo autocoscienza per darci importanza ma noi l'unica prova che noi abbiamo della nostra coscienza è che possiamo comunicare quello che percepiamo questa è una prova concreta la possiamo mettere per iscritto possiamo scrivere una lettera possiamo scrivere un articolo di giornale possiamo scrivere un libro possiamo scrivere un libro delle dimensioni alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust il quale se vogliamo è tutta una successione di sensazioni e di stati d'animo ecco noi improvvisamente a un certo momento della nostra storia evolutiva abbiamo avuto il linguaggio abbiamo avuto la capacità di dire a se stessi e agli altri che cosa stiamo percependo viene prima il parlare con se stessi o il parlare con gli altri bella domanda secondo logica dovrebbe venire prima il parlare con se stessi perché io me stesso ce l'ho vicino ce l'ho a due passi ce l'ho dentro di me e ma probabilmente non è così probabilmente se io fin da bambino ma bambino piccino 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 non parlassi con gli altri non ascoltassi gli altri non capissi che certe sensazioni si possono trasformare in rumori si possono trasformare in suoni probabilmente io non parlerei certamente e forse non avrei nemmeno coscienza nell'antichità sono stati fatti gli esperimenti più strampalati c'è un faraone che ha chiuso un bambino in una stanza servito solo da serve mute per vedere qual era la prima lingua del mondo perché secondo lui la prima parola che avresti detto questo bambino era la lingua la prima lingua del mondo naturalmente lui credette di capire che era una ma non è vero nulla perché probabilmente il bambino emise un suono casuale era fatto mamma mamma qualcosa del genere ma gli esperimenti sono continuati perché noi abbiamo sempre avuto la curiosità di sapere come è nato il linguaggio e come mai noi possiamo comunicare recentemente non so se avete visto sui giornali c'è stato un grande convegno negli Stati Uniti sull'origine del linguaggio in cui hanno fatto le proposte più diverse Chomsky che è il maggior linguista vivente ha scritto un articolo dicendo bravi fate bene a cercare ma state cercando nel posto sbagliato come è nato il linguaggio non lo sappiamo e non lo sapremo per un bel po' io devo dire distinto sono da questa parte il linguaggio è qualcosa che è nato un po' all'improvviso e su base certamente genetica perché mio figlio parla e il figlio di mio figlio parla mentre il figlio del cagnolino per quanto intelligente per quanto brillante non parla quindi certamente su base genetica ma quali geni si saranno cambiati si saranno trasformati per farci parlare non lo sappiamo noi facciamo il passo dalla percezione a quella che noi chiamiamo coscienza grazie alla capacità di comunicare che guardate bene vale prima con gli altri che con noi stessi perché un ragazzo tenuto lontano da persone che parlano fino a una certa età poi non parlerà mai non possiamo data la rarità degli eventi e la stranezza dell'esperimento sapere che cosa penserà ma se da un certo punto in poi se non ha imparato a parlare non parlerà mai fa pensare che non abbiano un'interiorità di che cosa ho parlato stasera ho parlato un po' di tutto e un po' di nulla vi ho buttato là un po' di problemi ho parlato del nostro cervello giocherellone tenetevelo caro il cervello giocherellone perché è la parte più creativa più inventiva più umana più artistica ho parlato dell'invenzione dell'essere perché quella palma ormai quella palma è diventata cerebre quindi sappiamo tutto di quella palma io la vedo come tale solo perché i miei sensi fanno un certo numero di domande che stanno scritte nel mio genoma un cane un gatto o una lucertola si farebbe tutt'altra domanda probabilmente la lucertola non la vedrebbe nemmeno perché a fuoco l'occhio fino a lì non lo mette e poi ho parlato del linguaggio che fa fare il passo fra la percezione e la coscienza ho fatto praticamente la genealogia dell'essere se vi pare poco andate a sentire un'altra conferenza grazie ci sono delle domande infatti io ho scritto un articolo sulla stampa in cui io dico noi siamo gli animali di una certa dimensione che abbiamo la testa più tonda perché abbiamo la testa più tonda perché la funzione masticatoria che pure esiste non è così importante come in un cane per esempio quindi ci si è ridotto il mento e ci siamo ridotti quasi esclusivamente al cranio che serve a tenere il cervello quindi testa tonda vuol dire cervello tanto cervello in più poiché cervello grosso e noi abbiamo un cervello grosso significa testa grossa il parto sarebbe continuamente a rischio se la natura non avesse inventato un curioso fenomeno che è quello di fare sviluppare il nostro cervello lentamente noi nasciamo col cervello non sviluppato si sviluppa nei primi mesi e anni dopo la nascita biologica e quindi abbiamo la testa come un embrione di scimpanzè gli embrioni hanno la testa tonda notoriamente noi se volete siamo embrioni che camminano anzi embrioni che si riproducono questo ci dà un vantaggio eccezionale sembra un un grosso handicap perché da piccini non siamo buoni assolutamente a nulla per mesi e per anni però tutto quello che noi vediamo e sentiamo nei primi mesi e anni di vita non si attacca al cervello si scolpisce nel cervello e quindi non ce lo dimenticheremo mai più questo secondo me ha voluto dire poter dar vita ad un'evoluzione culturale quindi sono io il colpevole di questo discorso del cervello più tondo perché non avendo capito di quello di cui dovevo parlare mi hanno chiesto un articolo e ho scritto un articolo in questo senso è tutto vero però è un altro aspetto grazie io voglio chiedere una cosa forse legato un po' a quello che stavo dicendo adesso il fatto che l'uomo è passato dall'austropitecus affariensis 3 milioni e mezzo di anni fa adesso da un cervello molto piccolo configurato in un certo modo quindi un cervello animale diciamo era una scimmia all'uomo e quindi senza quasi colpo ferire cioè ci sono passati 3 milioni e mezzo di anni c'è stata una mutazione naturalmente però chiaramente se c'era l'impronta dell'uomo già in quel momento vuol dire che anche noi sappiamo che le scimmie sono quelle che sono più vicine agli uomini quindi probabilmente diciamo il genoma della scimmia è molto simile all'uomo io non sono un biologo quindi non lo so ecco vorrei avere una risposta tramite questo e poi d'altra parte Darwin ha detto che a un certo punto ci sono state delle notevole mutazioni tra le varie specie sono passate da una specie a un'altra trasformando completamente la loro morfologia la loro forma quindi quello che ha detto mi va benissimo però queste trasformazioni ci sono state e il cervello che è una funzione fondamentale per la vita per l'essere umano deve aver contribuito a queste manifestazioni ma sicuramente 7-8 milioni di anni fa è cominciato a succedere qualcosa nel regno delle scimmie infatti ci sono scimmie piccole e scimmie grandi scimmie antropomorfe e scimmie più scimmie naturalmente noi lo ricostruiamo a posteriori questo ovviamente e quindi nella linea delle scimmie antropomorfe a un certo momento si è arrivati al parente nostro più prossimo che è lo scimpanzeo per meglio dire il bonobo che è lo scimpanzeennano e nei tre milioni e mezzo di anni da allora che cosa è successo il nostro cervello è cresciuto di tre volte abbiamo inventato l'uso degli strumenti abbiamo inventato l'uso del fuoco abbiamo costruito una civiltà abbiamo goduto del linguaggio non sappiamo bene quando l'unica cosa che non sappiamo bene quando la stazione retta lo sappiamo quando il cervello si è moltiplicato lo sappiamo il linguaggio non lo sappiamo è successo qualcosa di biologico che a un certo momento ha cambiato tutto Hegel in verità Engels diceva nell'ottocento che la quantità può anche diventare qualità che è un concetto molto interessante perché diciamo un granello di sabbia non è un monte di sabbia due granelli di sabbia non sono un monte di sabbia ma migliaia di granelli di sabbia sono un monte di sabbia ecco qualcosa è successo dentro noi all'inizio la differenza era quantitativa quindi eravamo scimmie un po' più intelligenti o più intelligenti significa più fetenti più cattive più capaci di imbrogliare più capaci di mentire perché gli animali inferiori non sanno mentire e poi a un certo momento questo ci è venuto comodo quando è stato il salto e chi lo sa come è stato non lo sappiamo se lo sapessi non sarei qua sarei da qualche altra parte nell'empirio probabilmente però è una delle domande più belle che uno si può sapere io sono un darwinista noi siamo convinti che le cose sono andate così però in un certo senso la natura ha esagerato ho detto prima ci bastava otto novecento grammi di cervello che già sarebbero stati più dello scimpanzé siamo arrivati a questo livello è un bene è un male noi siamo abituati a pensare che sia un bene perché facciamo tantissime cose che loro non sanno fare però facciamo anche tante cose che sarebbe meglio che non facessimo quindi noi abbiamo anche il tormento interiore abbiamo il tedio leopardiano la noia di vivere probabilmente nessun animale la prova quindi noi siamo i destinatari di questo aumento che ha degli aspetti indubbiamente positivi e degli aspetti indubbiamente negativi continuerà ma l'evoluzione continuerà certamente però bisogna aspettare due o trecentomila anni prima di vedere che cosa succede quindi nessuno di noi ha la pazienza da aspettare e poi soprattutto noi oggi siamo arrivati con le nostre conoscenze alla vigilia della possibilità di modificare noi il nostro genoma io sono sicuro che tra una ventina d'anni succederà qualcosa del genere e quindi a quel punto non sarà più evoluzione naturale ma sarà evoluzione diretta dall'evoluzione culturale potrei continuare ma chiaramente mi manca la sfera di cristallo perché io poi non so cosa succederà veniamo da un passato animale andiamo verso un futuro sconosciuto comportatevi bene devo tenere il libro grazie 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 professor Boncinelli le ultime cose che lei ha detto ci fanno pensare al progresso della conoscenza da parte dell'uomo che è appunto si pone in termini dinamici e quindi a domini crescenti diciamo così e invece la relazione che lei ha fatto prima a volte fa pensare molto a una visione deterministica nel senso che quando lei parla di domande e di risposte come dire finite nel senso che a quelle domande ci sono quelle risposte e nient'altro e che quindi in questo caso l'essere umano come dire determinato nelle sue forme rappresentative interpretative e quant'altro sembra che appunto non come dire le due cose non sono la stessa cosa cioè l'uomo in qualche modo sta andando oltre quello che poteva sembrare una cosa insuperabile prima l'ultima cosa è a proposito dell'essere e quindi dei filosofi perché lei è uno scienziato e a volte parla ironicamente dei filosofi con molta probabilità lei ha ragione però lei si alimenta anche dei filosofi e quindi le chiedo che rapporto c'è tra la filosofia e la scienza e in ultimo visto che siamo senso comune qui e lei è uno scienziato che rapporto c'è tra senso comune e scienza e quella percezione appunto come può cambiare tra il senso comune e la scienza e in particolare io credo che la percezione cambia proprio nel tempo è una mitragliata di domande dunque la prima cosa sembra che le due cose siano in contrasto e come l'ho messo io chiaramente sono in contrasto però noi siamo tutte e due le cose abbiamo una parte animale che non evolverà tanto presto o forse non evolverà mai e abbiamo una parte culturale che evolve tutti i giorni pensate come era la vita 30 anni fa senza i telefonini e come adesso pensate come era i mezzi di trasporto 100 anni fa e adesso noi siamo sempre dilaniati tirati un po' a destra e un po' a sinistra la biologia ci porta a qualcosa di fisso e di conosciuto e di prevedibile la nostra cultura ci porta verso l'ignoto verso l'avventura verso il continuo andare avanti a patto che uno sapesse cosa vuol dire avanti e cosa vuol dire indietro quindi lei ha perfettamente ragione ma noi siamo tutte e due le cose con la biologia siamo fermi con l'evoluzione culturale andiamo avanti il rapporto con la filosofia è presto risolto una volta esisteva solo la filosofia e probabilmente l'occidente ha visto la scienza proprio perché in occidente è fiorita la filosofia quindi i filosofi erano quelli che si occupavano delle domande fondamentali in Grecia essenzialmente a un certo momento verso il 1600 1700 c'è stata una divaricazione la filosofia è rimasta filosofia con le sue domande fondamentali confidando solo nella capacità speculativa ed è nata la scienza sperimentale che è convinta che con sola speculazione non si arriva a conoscere bisogna fare anche gli esperimenti Galileo che guarda caso è nato in Italia e che è poco considerato in Italia mentre è considerato in tutto il mondo è stato quello che ha rotto questo equilibrio oggi come oggi ci sono i filosofi di professione e gli scienziati di professione lo scienziato di professione è uno che sappiamo cosa fa il filosofo di professione è uno che insegna la storia della filosofia almeno che sia una persona eccezionale con capacità creative e allora continua a raccontarci qualcosa del mondo basandosi solo sulla sua capacità speculativa quindi secondo me tanto lontano non potrà andare io ho insegnato per 13 anni alla facoltà di filosofia del San Raffaele mi sono trovato immerso nei filosofi e sono tuttora immerso nei filosofi il mio migliore amico è Giulio Giorello col quale abbiamo appena scritto un libro che è un filosofo il rapporto tra senso comune e scienza è abbastanza semplice il senso comune è radicato nel tempo si trasmette di generazione in generazione e si basa su una certa conservazione il senso comune è molto utile ci dice tante cose però all'inizio del secolo scorso si è rotta l'alleanza fra scienza e senso comune il senso comune può arrivare alle stelle può arrivare all'elettricità può arrivare al magnetismo non può arrivare agli elettroni non può arrivare ai nuclei atomici non può arrivare ai buchi neri quindi noi altra dilacerazione ci troviamo oggi con un piede da una parte e un piede dall'altra nella vita di tutti i giorni compreso me io seguo il senso comune nella vita intellettuale se seguo la fisica ma anche la biologia mi trovo su una strada che non ci viene naturale perché noi siamo cresciuti in un mondo di oggetti piccoli che durano poco e quindi il nostro cervello è perfetto per quel mondo lì ma non è perfetto per gli elettroni non è perfetto per i buchi neri quindi avremo un'altra divaricazione che ci porterà sempre più diciamo così a soffrire oppure a divertirsi perché è chiaro che se io devo pigliare un bicchiere lo faccio come lo facevano i miei antenati 7-800 anni fa ma se devo accendere il telefonino e se ho cognizioni di elettronica e dire lo devo sintonizzare mi comporto come un uomo del nostro tempo io sono particolarmente contento di essere vissuto in quest'epoca perché tutte le cose che ho visto negli ultimi 40 anni non le avrei volute perdere per niente al mondo certo nei prossimi 40 anni succederà tante ma non ci posso fare niente su quello sono un animale quindi a un certo momento dovrò salutare la platea e magari qualcuno verrà a raccontarmi che cosa succederà grazie a tutti grazie a tutti